Benvenuti ragazzi, qui CiccioBug, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi, come vedete dal titolo, ci stiamo avvicinando ai 500 iscritti e quindi per ringraziarvi volevo fare un piccolo giveaway, che male non fa, di una schedina di League of Legends da 10€. Questo è un piccolo giveaway che comunque, come ho detto, lo faccio per ringraziarvi voi per questi 500 iscritti e cosa dovete fare per partecipare al giveaway? Allora, per partecipare al giveaway dovete mettere like a questo video, commentare a questo video con scritto CiccioBug e poi il vostro nome di LOL, il vostro nickname sotto, sotto sempre nel nostro commento intendo, iscrivervi al canale, condividere il video e iscrivervi alla pagina Facebook che trovate in descrizione. Quindi, mettere like al video, commentare che ho scritto CiccioSwag e il proprio nickname di LOL nello stesso commento, iscrivervi al canale, condividere il video e mettere like alla pagina Facebook. Per quelli che resteranno attivi nel canale dopo il giveaway, cioè senza disiscrivervi appena finisce il giveaway, quelli che resteranno attivi avranno dei vantaggi nel prossimo giveaway che farò, che vi spiegherò a tutto tempo debito. Quindi io vedo se voi vi disiscrivete, ho tutta la lista dei... degli iscritti, quindi vedo quando vi iscrivete, quando vi disiscrivete, insomma vedo tutto. Un'altra cosa, l'iscrizione deve essere pubblica, quindi andate sul vostro profilo di YouTube e mettete iscrizione pubblica, così riesco a vederlo nella lista. Bene ragazzi, per questo video è tutto, quindi ricordatevi i passaggi e niente, ci vediamo al prossimo video. Bella!